Innanzitutto come prima cosa vorrei dire penso e credo che il risultato sia un po' troppo pesante per quello che è stato l'andamento della partita, credo che sia una cosa un po' obiettiva al di là che posso essere pure da parte, però abbiamo pure dimostrato di essere un'ottima squadra siamo riusciti a stare bene in campo, loro naturalmente sono forti, lo sapevamo, l'avevamo già visti hanno dei giocatori che veramente ti incantano solamente a guardarli per cui è chiaro che ci poteva essere una sconfitta, siamo riusciti comunque a contenere forse il nostro errore è stato un po' quello di non esserci riusciti in pieno nel primo tempo nel secondo tempo siamo andati molto 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 meglio, a posto le dico che il risultato mi sembra un po' troppo pesante per l'andamento della partita, perché è un primo tempo in cui loro veramente sono stati superiori e un secondo tempo in cui penso che, non voglio essere frainteso, ma mi sembra che al limite ce la siamo giocata alla pari e purtroppo però, d'altronde, i giocatori di classe e di categoria fanno la differenza poi insomma in campo innanzitutto il nostro obiettivo era quello di ben figurare, prima cosa, perché noi siamo neofiti di questa categoria per cui non sapevamo bene l'impatto quale poteva essere, siamo andati abbastanza bene ci siamo trovati in quella posizione di classifica in cui potevamo stare anche meglio perché abbiamo spiegato una partita incredibile, non so qui a ricordare, ma ce l'ho sempre nella mia mente che ci ha fatto un po' allontanare dalla vetta comunque la vetta è una cosa che era impensabile per noi all'inizio quindi se dovessimo riuscire a arrivare a playoff avremmo veramente fatto un qualche cosa che credo, io penso che sia un qualcosa di eccezionale per una squadra che è il primo anno che approccia questa categoria